Immersa in una distesa incontaminata di boschi verdeggianti, situata nella collina ai piedi del massiccio del Monte Cavallo, sorge Budoia. A Budoia è possibile percorrere a piedi un fantastico sentiero naturalistico lungo 12 chilometri, che permette ai visitatori di trascorrere una giornata all'insegna della comunione con la quiete della natura. L'antica religiosità di Budoia è scritta nelle sue chiese, tra le quali spiccano quella di Sant'Andrea Apostolo, risalente al 1700. La chiesa di Santa Maria Maggiore, nella vicina frazione di Dardago. E la chiesa di Santa Lucia al Colle. Budoia dona ai suoi cittadini una serie innumerevole di ricchezze e bellezze, che vanno dalla natura all'arte, dalla fede alla tradizione, come la festa dei funghi e dell'ambiente, che a settembre richiama migliaia di turisti.